ecco allora innanzitutto chiediamo scusa se il tono della voce leggermente più basso ma oggi era l'unico momento e modo che ci avevamo per registrare questo video ragazzi poi la location è diversa dal solito sembro che so basso io in realtà io sono 1,82 vabbè ma a parte questo sono 1,86 infatti ci servo sono 5 cm le dimensioni non contano siamo tornati con questo nuovo video perché ragazzi abbiamo letto stamattina una notizia che potrei parlare a bassa voce vabbè parla tu allora ok niente la notizia principale di stamattina è che Emreciana praticamente è un giocatore dell'Agnontus aspetta praticamente cioè bisogna sempre vedere esatto parliamo di indiscrezione di calciomercato perché poi qualora alla fine dovessero cambiare idea dici oh che è successo va bene esatto però l'indiscrezione ricorrente riportata da più testate stamattina è proprio quella è stata riportata da più testate si parla di parametro zero per la Juventus parametro zero che comunque era un giocatore già seguito dalla scorsa estate ma non solo dalla Juventus ma non solo dalla Juventus no parlo proprio della Juventus insomma scusate questa pastazza sì sì e niente quindi sembra che finalmente è riuscita la proposta che ha fatto la Juventus un contratto dei 5 anni e 6 milioni di euro l'anno si permettono di pagare uno stipendio così elevato proprio perché il giocatore arriva gratuitamente in Scadero con Liverpool ma soprattutto c'è da dire che è un giocatore molto giovane c'è ancora 24 anni se non mi sbaglio mi ricordo l'età ancora ampi margini di miglioramento e soprattutto per come se è dimostrato anche questa stagione con Liverpool anche se attualmente è infortunato eh anche sì esatto e potrebbe anche rischiare il mondiale però comunque è un jolly di centrocampo e non solo cioè comunque all'occorrenza può fare anche il terzino in difesa lo sposti avanti quasi in attacco praticamente è un giocatore praticamente a tutto campo e forse alla Juventus un giocatore del genere manca perché comunque in vista di qualche defezione può essere sempre ricorrente lo vuoi utilizzare un po' dove meglio dove meglio può essere utile poi credo che la Juventus quest'anno faccia parecchio rispetto all'anno scorso sul mercato proprio per cercare di rivoluzionare la rosa e magari arrivare a quella tanto agognata Champions League che quest'anno è sfumata proprio prima rispetto agli anni passati diciamo che non è proprio empriciando il giocatore che te può spostare l'equilibrio esatto ma ti dà quantità ti può dare qualità ovviamente però intanto mettono in rosa che comunque è un gran giocatore e poi per quanto riguarda il mercato collestivo vedremo un attimo che cosa potrà portare in dote la Juventus per migliorare ulteriormente la rosa che a mio avviso è già molto molto forte è abbastanza competitiva chi prenderà a Roma? eh sì chi prenderà a Roma vedremo guarda secondo me già che non vendiamo come finisce sta stagione già che non vendiamo già è veramente una conquista perché noi tutti l'anni del solito cassa 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 cazzo cazzo è cazzo ecco quindi speriamo di no che ne pensate voi qualora realmente la Juventus ripetiamo è un'indiscrezione sì riportata da tante d'estate ma il carciomercato ancora non è aperto quindi non c'è nulla di ufficiale che ne pensate di Emre Can qualora dovesse arrivare alla Juventus se lo conoscete come giocatore se non lo conoscete andate a cercare guardatevi le skills perché insomma è un giocatore a decarnatura abbastanza importante molto molto importante e soprattutto giovane mi piace commentate condividete iscrivete al canale ragazzi non ho ancora pubblicato la live reaction perché purtroppo sti giorni non abbiamo problemi personali impendi non abbiamo proprio modo quindi appena possibile la pubblichiamo esatto ma voglio sapere se la volete uguale quindi hashtag live reaction qualora la vogliate nonostante sta abbastanza acqua dei giorni ha giocato parecchi giorni fa ha giocato sabato vogliamo saperlo va bene se ci riesco alla pubblico il prima possibile ciao ciao